Attendono ancora 11 mensilità, oltre 2 tredicesime, le 15 lavoratrici della casa di riposo IPAB Gurrera Moncada Calafato di Viaturati, che nonostante ciò proseguono a prestare la propria attività senza alcuna interruzione del servizio. Ad aggravare la loro situazione il licenziamento di altre 15 lavoratrici della cooperativa che sinora hanno collaborato con i dipendenti dell'IPAB e che dal 1 aprile si ritrovano da solo. Raddoppiamento dei turni, sospensione delle ferie, dei giorni di riposo della legge 104 per chi ne aveva di diritto le conseguenze del licenziamento delle lavoratrici della cooperativa. Una situazione quella che si è venuta a creare per la quale i rappresentanti sindacali della CGL Cisleville hanno espresso grande apprezzione. Questa situazione va ad aggravare la situazione già grave di per sé di quello che è il personale dell'IPAB, il personale dipendente, perché questi 15 lavoratori si vengono a trovare, non solo sono nelle condizioni economiche, anche loro vantano un credito verso l'operapia di ben 11 mensilità e due tredicesime, ma si trovano da oggi a vedere raddoppiati i loro turni di lavoro, sospese le ferie, sospesi i riposi, sospesi i permessi della legge 104 per chi ne aveva diritto, quindi si chiede un ulteriore sacrificio al personale dipendente. Lo farà però perché è un personale che sempre con abbenegazione, nonostante non venga pagato e nonostante non venga riconosciuto il loro grande lavoro, ha sempre lavorato e non ha mai interrotto il servizio. Un accordo che era stato fatto qualche mese fa, 6-7 mesi fa con l'ufficio del lavoro di 2.500 euro che sarebbero stati diluiti con mensilità costanti, non è stato mai tenuto conto di questa amministrazione e pertanto adesso noi chiediamo un incontro immediato con i responsabili di questa operativa per cercare di capire il futuro che deve avere questa cooperativa stessa ma anche il futuro che devono avere questi lavoratori. Ricordiamoci che l'Operapia è proprietaria di diversi immobili che qualcuno fa amministrare ad altri, ricordiamoci la Saccara, c'è un introito di quasi 80 mila euro al mese che non si sa come vengono poi spesi con un contributo verso l'Operapia che è al di sotto dei 600 euro al mese, perciò capite benissimo che oltre al danno anche la beffa e proprietà dell'Operapia vengono gestite da altre persone e pertanto il personale che si sobbarca di lavoro già da sempre, da che è nata questa Operapia, viene trattato veramente a pesci in vaccia.